Il quotidiano economico Il Sole 24 Ore Un giornale attento Che ama anche l'approfondimento Che in genere non si accompagna da analisi superficiali Qui ha sbagliato Sbagliato perché il titolo è falso Di Napoli tutto si può dire tranne che è una città morta Napoli viva, vivissima, tantissima gente Turisti come non sono mai visti nella nostra città Energie, eventi, forza Ovviamente tanti problemi Ma dire che Napoli è una città morta si dice il falso Parlano di partecipate come un carrozzone costosissimo, citiamo proprio la frase utilizzata da chi ha scritto il pezzo Le partecipate le abbiamo ereditate Ma chi ha scritto il pezzo dovrebbe sapere che ne abbiamo già ridotte tantissime Ne ne ridurremo altre Però abbiamo puntato sui lavoratori e le lavoratrici Non abbiamo licenziato in un momento di crisi perché rispettiamo il lavoro Abbiamo fatto un'unica grande holding dei trasporti Abbiamo ripubblicizzato Forse questo dà fastidio a qualcuno Che noi non intendiamo svendere tante cose Il patrimonio immobiliare prima era esternalizzato Oggi lo gestiamo noi L'acqua è pubblica a Napoli Nonostante un referendum nazionale È l'unica grande città d'Italia che ha l'acqua pubblica Così come altri servizi Quindi le stiamo riducendo Esattamente il contrario della creazione dei carrozzoni E purtroppo le abbiamo ereditati E li dobbiamo gestire tra mille difficoltà E poi si torna a parlare di rifiuti Di Napoli come la città dell'ammonezza tra virgolette Da un lato viene citata quella che è stata una sua promessa elettorale Di raggiungere il 70% della differenziata Dall'altro lato viene criticato l'invio dei rifiuti all'estero In Olanda in particolar modo Si dice che sia un aggravio per quanto riguarda il costo alle spese E quindi di conseguenza le tasse A Napoli se oggi è tornata a essere come non lo è mai stata Così piena di turisti Innanzitutto perché noi abbiamo tolto dai siti Dai social network l'immagine dell'emergenza di rifiuti Con quella della Napoli dei giovani La Napoli viva La Napoli dei concerti Dello sport Della creatività Della passione e dell'innovazione Abbiamo risolto tutto il problema dei rifiuti Ma certo che no Perché non avendo soldi ci vuole ancora tempo Dobbiamo costruire impianti che altri non hanno fatto Però Napoli non è più la città dell'emergenza Non possiamo assumere quindi abbiamo difficoltà a fare lo spazzamento come vorremmo Ma stiamo realizzando gli impianti di compostaggio Stiamo comprando le spazzatrici Falso che portare per un periodo transitorio i rifiuti all'estero costi di più Costa molto di meno da quando prima c'era l'emergenza di rifiuti C'erano i subappalti, c'era la camorra e c'era l'illegalità Allora ecco fa veramente male Lo dico da napoletano, lasciamo perdere un attimo il sindaco di Napoli Che ha il dovere di rappresentare tutti i cittadini di Napoli A grande orgoglio e si è stancata E prima be l'acqua che non è buona E poi la pizza che non è buona E poi il caffè che non è buono E poi i tifosi napoletani che non sono buoni E la città che non è buona Noi siamo stancati Che Napoli e Italia È una delle più importanti città del mondo E ci siamo stancati di questo giornalismo superficiale E assolutamente contrario alla verità dei fatti Altra cosa è raccontare le cose che non vanno Aiutarci a migliorarle Criticarci Sollecitarci Pungolarci Un'altra cosa è scrivere che Napoli è una città che sta morendo o è morta Perché veramente è una pagina inaccettabile di giornalismo serio nella nostra città Viene da citare Pasolini Quando nel 1969 diceva che l'informazione, i media dovrebbero appunto informare e far divertire Troppo spesso indottrinano e manipolano Torniamo all'informazione seria nel nostro paese Grazie a tutti